Ho detto Muro da questo punto del concerto, mi piaceva fare un pezzo che spesso mi ha portato in televisione dal Costanzo Show a Uno Mattina, a Domenica Inn, a Mezzanotte Dintorni, Tappeto Volante. E' una mia rivisitazione veramente rubata dal grande pago dell'usia che ricordo con grande affetto, ovviamente rubata indegnamente, sbobbinato un po' dal suo arraggiamento questo capolavoro. A Domenica Inn, a Mezzanotte Dintorni 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 Grazie!